È interessante che il legislatore abbia posto l'attenzione sulla sicurezza delle cure. Non promette e non può farlo la guarigione e la tutela della salute a ogni costo e a ogni prezzo, ma si impegna a garantire che le cure prestate siano cure sicure. E questo è l'antecedente logico per sperare che queste cure puntino a un miglioramento della condizione del malato. In questa prospettiva diventa importante per i medici contare su delle forme di esonero da responsabilità che allontanino pratiche di medicina difensiva, queste sì pericolose per la sicurezza delle cure, oltre che per la sostenibilità del nostro sistema sanitario. Anche attraverso il diritto penale, un diritto penale della prevenzione e della gestione del rischio clinico, si possa sconfiggere o quantomeno ridimensionare il fenomeno della medicina difensiva cercando di conferire maggiore serenità alle decisioni dei medici.